bella a tutti i forniters benvenuti e bentornati sull'ion 256 per andare a vedere il negozio i oggetti di oggi 27 settembre rupius poi il ritorno di ariana grande eccolo qua il doppio stile ariana del dorso decorativo pinky smalls icone distruttore seven rings sette rings ma no green e l'emote unicorno fluttuante poi abbiamo l'altro bundle di ariana grande cosmonauta con ariana grande cosmonauta e la versione un poco astrale e poi abbiamo con o senza casco diciamo no con il casco lego d'orso decorativo iris e qui c'è la schiusa anche se non si vede un po' buggato piccone falce di luce cosmonauta anche questo astrale e poi con bagliore anche qui un po' di bug e iris sono gli occhi aperti come deltaplano e anche qui incubo poi scendiamo abbiamo i costumi x force quindi la skin di psylocke psylocke con il dorso decorativo shuru yuki costume domino e dorso decorativo zainetto di domino poi abbiamo cavall il dorso decorativo mantello cavall in doppio stile con il cappuccio alzato e poi l'attrezzatore x force con i picconi lama psionica ali psioniche sono deltaplano pugnali delle probabilità e piccone inarrestabili forza inarrestabile poi abbiamo x 23 doppio stile con o senza maschera poi abbiamo il dorso del guardivo capsula del clone piccone artigli di adamantio dx 23 e copertura in segne x e poi abbiamo il flusso fortnite le mot con bababai la novità medio look never gonna nessuna cura bellina questa qua poi qui dove siamo andati dato per fatti i suoi eccolo qua carica luce stellare passo del cuore spessato e ambizione poi abbiamo ancora il bundle dell'azienda iron man ditpool wolverine naika vittoriosa airforia 1 e 2 spiderman 0 mary j watson arma x la strada dei campioni maghi dell'evasione con ritorno di alias e di furfante e tutto il loro bundle sempre mezzo bagato e poi stile distintivo abbiamo cable con o senza maschera poi abbiamo il dorso decorativo scudo del rampollo frullio con il dorso decorativo frullo d'ali e poi abbiamo ozzuri con la stile inchiostro fresco e total denim abbiamo guerreri più amati incantati come il dorso decorativo e la schermata di caricamento il migliore del ring il piccone da potenziato poi abbiamo detective il dorso decorativo caso riservato piccone ascia di ingrandimento un altro piccone ascia ad arpione e poi la skin ranger della sbarriera ovviamente in mono stile con il dorso decorativo serbatoio d'aria poi il bundle la brigada di fantocci le tracce gem attrezzate per il festival carol g peregrin tt ok poi i soliti pass e i soliti i soliti pacchetti ok più salva il mondo che non vediamo da nintendo switch è tutto per questo negozio oggetti di oggi ragazzi ci vediamo con quello di domani mi raccomando un bel mi piace iscrivetevi al canale e continuate a seguirci ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti